Dal 17 marzo al 10 giugno partono gli incontri di Wake Up Italia, appuntamento organizzato dall'Università di Verona, nello specifico dal Dipartimento di Scienze Economiche di Ateneo. 14 dialoghi con 14 leader del mondo economico e della società per i giovani e per far ripartire l'Italia. Siamo in compagnia con Sergio Noto, docente di storia economica di Ateneo e promotore dell'iniziativa. Professor Noto, ci dà qualche indicazione? Perché nasce Wake Up Italia? Beh, Wake Up Italia è semplicissimo perché nasce. Nasce perché la situazione è molto grave, perché è necessario prendere atto di questa situazione, adottare le misure ormai indispensabili e non più rimandabili e i giovani sono in prima linea tra coloro che qualora non adottassero le misure necessarie ne pagherebbero le conseguenze pesanti. Quindi Wake Up Italia, diciamo, con allegria però ricorda la gravità non attuale ma futura della situazione economica, culturale e politica italiana. 14 gli ospiti invitati a parlare in queste videoconferenze. Vuole farci una carellata di nomi, vuole spiegarci chi sono e perché abbiamo invitato proprio loro? Beh, appunto il motivo si riconduce a quanto ho detto prima, cioè ognuno di questi nella sua esperienza sono dei leader perché sono persone estremamente influenti con grande esperienza al più alto livello e quindi sono in grado di indicare qual è la strada da percorrere per uscire dalle secche della situazione attuale. Allora il primo sarà Dario Scannapieco, Dario Scannapieco è vicepresidente della BEI, della Banca Europea degli Investimenti, diciamo è uno dei soggetti strategici negli investimenti europei e nella spesa in Italia, cioè quello del famoso Recovery Fund e quindi era candidato per diventare ministro, quindi ovviamente spiegherà e chiarirà che cosa può fare l'Europa. È fondamentale per noi sapere che cosa può fare l'Europa e che cosa non può fare l'Europa e quindi che dobbiamo fare noi. Quindi questo è il compito dell'intervento del 17 marzo del Dottor Scannapieco, ripeto vicepresidente della Banca Europea degli Investimenti. Massimo Nordio, che sarà l'incontro del 22 marzo, è un manager impegnato nel settore dell'automotive, è il manager, è l'amministratore delegato di Volkswagen Italia. Quanto l'industria automobilistica sia strategica anche per il momento particolare che sta svolgendo e quanto sia importante anche per Verona, nello specifico la Volkswagen, ecco questo credo che non abbia bisogno di essere sottolineato. Il 24 marzo avremo Pasquale Tridico, presidente dell'Inps, parliamo di pensioni, parliamo di futuro, parliamo di futuro soprattutto dei giovani i quali appunto prenderanno da Tridico quali sono anche in questo caso i comportamenti da adottare per poter non solo tenere attivo questo settore importantissimo, ma per poterne personalmente utilizzare. Il 31 marzo abbiamo un incontro direi eccezionale che non si è mai verificato anche per la ritrosia particolare della persona, Jean-Pierre Moustier che è stato fino a un mese fa il CEO di Unicredit, un istituto probabilmente l'istituto italiano bancario più importante in Europa, darà alcuni consigli proprio pratici ai giovani, che cosa bisogna fare per poter lavorare e operare positivamente nel mondo dei manager. Ecco, e quindi si rifarà alla sua esperienza personale per dare dei consigli ai giovani. Fabrizio Barca è un economista e quindi ovviamente è da par suo. Poi abbiamo Fabio Innocenzi che in quanto da poco amministratore delegato di Banca Finint, diciamo è in questo momento non solo ha delle progresse esperienze non molto fortunate nel territorio veronese, ma ha delle esperienze future perché Banca Finint in questo momento è interessata a entrare e probabilmente entrerà a acquisire una quota di cattolica assicurazione, quindi diciamo le sue osservazioni sono di particolare pertinenza per il futuro dell'economia veronese. Mi soffermo brevemente su Raffaella Sadun, una giovane economista, su Alessandra Casarico, le donne sono molto importanti e sono il futuro. Tito Boeri è ben noto come economista e come ex direttore generale dell'Inps. Poi abbiamo perlomeno due persone che si occupano delle questioni più avanzate attualmente. Padre Benanti che si occupa di intelligenza artificiale e Fabio Vaccarono che è l'amministratore delegato di Google. Infine abbiamo un fisico come Federico Ronchetti che certamente ci dirà dove va la scienza quella più avanzata, quella più impegnativa, la ricerca nel campo della fisica. Da ultimo proprio per citare tutti i partecipanti ricordiamo Ferruccio De Bortoli che recentemente ha scritto un libro e che ha messo direi finalmente in luce l'importanza delle classi dirigenti nello sviluppo, nella crescita di questo paese che appunto in questo momento è rallentata. Bene professore, allora temi economia, finanza, la fisica ma anche l'intelligenza artificiale, tematiche interessanti per un'amplia platea di pubblico. Gli appuntamenti in effetti sono rivolti ai giovani, agli universitari e agli universitari dell'Università di Verone non solo ma anche alla cittadinanza intera. Certo, direi perlomeno al 50% anche la cittadinanza perché certamente i giovani sono la punta di diamante, il nostro oggetto maggiore di investimento ma ovviamente in questo processo per così dire di risveglio è necessario, è necessaria la partecipazione di tutta la società e quindi non solo dei giovani. I giovani purtroppo sono la parte più sensibile, la parte più delicata, la parte necessariamente che deve contribuire di più ma non possono da soli trascinare la società, la società veronese, la società italiana. Quindi noi speriamo che queste tematiche e l'alto livello con cui queste tematiche saranno affrontate sia di interesse dell'intera della cittadinanza perché sarebbe un buon segno che la cittadinanza veronese vuole effettivamente uscire con le sue mani dalle secche attuali. Molto bene, grazie professore per essere stato con noi. Grazie a voi.